462 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo, 10.070 i test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 4,6%. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 95. Il maggior numero di nuovi casi, 197, sono in provincia di Pescara, 112 sono nell'Aquilano, 107 nel Teramano e 59 nel Chietino. Dieci dei contagiati invece provengono da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.943. Nel totale odierno tre casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 1.026 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo i positivi accertati sono 11.102, 576 in meno rispetto a ieri. Rimane stabile la situazione negli ospedali, dove nelle ultime 24 ore per ogni dimissione c'è stato un nuovo ricovero. 667 sono i pazienti in area medica, 89 quelli in terapia intensiva. Qui il tasso d'occupazione è ancora oltre il 40%, a fronte di una soglia di allarme del 30%.